Il mio nome è Carlo, sono un ricerciatore. Questa farmia è un ricerciatore che è il partner di un progetto di ricerca sull'automazione, o parte dell'automazione, della caccia. In questo caso abbiamo installato un ricerciatore che funziona automaticamente 24 ore al giorno. Questo è un implemento molto importante per il metodo di ricerciatore totale, perché bisogna non solo distribuire il ricerciatore, ma anche di pulire il ricerciatore all'automazione. L'avvento è la frequenza, perché generale un operatore può pulire 3, 4, 5 volte al giorno, solo durante il tempo lavorato. Ma con un sistema automatico di pulire, puoi pulire 24 ore al giorno, per 10, 12, 14, 16 volte al giorno. E questo è molto importante per la tecnica di TMR, perché gli animali sono usati per seleccionare quello che preferano. E con il pulire, puoi pulire ancora la caccia per gli animali. E questo è fatto per 24 ore al giorno. Grazie. 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 Grazie.